Ragazzi oggi Dani è andato un attimo di là in cucina perché deve prendere una cosa Dai Dani ti sbrighi Ragazzi avete sentito il botto? Oh mio Dio Dani! 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 Sono madre a Genova, ho una azione in pratica cucina e non c'è Ma quali? Dove sei? Tu sei Dani e io sono Gianni insieme siamo il mio pazzo Ma nessuno infatti gli ha detto di restare Infatti non so neanche perché sono restato Dani! Dani! Cosa succede Dani? Dani! 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 Dani cosa succede Dani? Dani! Domini Non mi senti papi Ma dove sono? Sono Pompiere Ma quale? Mia prima siete in arrלים adesso un pompier Ancora! Ancora! Dani? Dani! Ancora! Dani come sei? Buongiorno! ma come parla? sono il dottore incurato no vabbè prima prete e poi pompiere e adesso anche il dottore di nuovo ragazzi Dani! 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 Dani basta! ancora Dani si prego torna testa su basta non ce la faccio più aiuto mi sta preoccupando mi sa che devo portarlo all'ambulanza mi sa che devo portarlo all'ambulanza ragazzi perché dopo quella botta lì è completamente impazzito Dani allora? buongiorno finalmente sono tornato normale sono Jack faccio il poliziotto sono il poliziotto di quartiere non sei tornato normale sono il poliziotto di quartiere il quartiere il quartiere sono il poliziotto di quartiere fermati tu non sei Jack tu sei Dani io sono Gianni siamo tutto pazzo è già la quarta volta che ti credi qualcosa prima il prete poi pompiere poi dottore adesso un poliziotto io sono Gianni sono tuo figlio ah capito ti devo portare con me alla scorta alla scorta siamo in casa dobbiamo presto dobbiamo vieni con me che ti insegno a sparare sparare ma io ho capito sei l'allievo sei qua per imparare ma io non sono nessun allievo sono tuo figlio sono Jack il poliziotto il poliziotto di quartiere siamo Jack il poliziotto di quartiere va bene va bene va bene hai ragione siamo al gioco Jack il poliziotto di quartiere questa è una pistola eh sì lo so lo vedo e tu sei un pistola grazie ti tiro la corda ma la corda aspetta che hai detto che mi insegna a sparare prima ti faccio vedere come si fa va bene allora bisogna mirare il quadro si fira il proiettile si abbiamo filato poi si tira la staggella quella lì non so se ti rendi conto ma è una pistola giocattolo questa è una pistola data in dotazione alle armi della polizia sì va bene va bene sì va bene è vera è vera va bene abbiamo tu sai che c'è la polizia va bene la polinonna ma no il poliziotto via attento sì devi mirare un punto preciso aiuto raga hai visto sì ma non vedi che non è esploso è una pistola finta Dani non sei Jack Dani va bene perché mi chiami Dani perché sei Dani va bene fanno stare sono Jack sono il poliziotto sì poliziotto e il quartiere va bene poliziotto quartiere quartiere e poliziotto guarda guarda come sono capace allora io quadro eh no quadro quadro adesso tre due uno guarda bravissimo guarda io sono bravissimo a sparare non c'è bisogno che mi siedi guarda si spara anche te è andato via anche il proiettile mi dispiace Jack recupera il proiettile subito prima che ti sparo eh non so se lo sai ma ce l'ho io la pistola tu spari solo cazzate prendi il proiettile iiii ma sei cattivo dov'è dov'è eee aspetta iiii l'ho trovato ok meglio lasciare stare sparare prima che vediamo non c'è regalo eh sono poliziotto abbastanza cattivo eh cos'è che fa adesso vuoi addestramento ma vuoi addestramento che stai a fa basta Dani eh Jack poliziotto di quartiere basta attento che c'è cosa c'è sono delle piccole mani le piccole mani dove sono ma cosa piccole mani le manette ma cosa fai ma cosa no basta non c'è nessuna manetta le manette basta ma cosa fai sono Jack si poliziotto di quartiere poliziotto poliziotto di quartiere basta questo poliziotto di quartiere ho capito ti calmi senti questo odore hai bruciato io in verità sento d'orre di aria non c'è nessuno odore siamo in casa ma non c'è un incendio ragazzi vedete un incendio vedete fuoco ma no ma dove ma quale ma c'è ma chi è quello ma no ma cosa ma cosa stiamo nemmendo fuoco tutto no sentate questi torri ma calmati calmati è completamente impazzito ma questo è fatto è perché tu no io no io sono jack poliziotto poliziotto di quartiere basta ma c'è anche sam guardiere prendi l'acqua luciate l'incendio è la prima volta che ci sono ma quale pistola cosa c'entra la pistola con l'incendio rispondo al fuoco l'avete spento no ma è la prima volta che ci sono due personaggi insieme sam e jack basta che stai facendo si hai ragione io me ne vado si va bene si hai ragione sta parlando da solo ma parla anche da solo io me ne vado non sto parlando da solo sto rispondendo a fuoco basta l'avete spento se no mi fa le domande io mi rispondo basta l'avete domato abbiamo domato ok io anche sam ciao sam ciao mo parla anche da solo cioè mo ci sono anche due personaggi insieme oh che miseria cosa c'è adesso due scagnozzi due scagnozzi ma gli estendi ma cuomi mi hai messo in qui presto andiamo sulla macchina sulla macchina della polizia no io non ci vado e te lo puoi scordare quale macchina scuomiti sediamoci questo è un divano non so se te ne rendi conto accendiamo dai sbrigiamo ma cosa fai ma cosa fai ma cosa stai facendo basta fermi ma io cosa fai ma sei pazzo aiuto ragazzi c'è una strada infuocata ma questo basta ho tirato sotto sam ecco bravo hai fatto bene basta sono arrivati presto ragazzi non ce la faccio ma ragazzi 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 ma perché? ma cosa ho fatto di male? la polizia stavolta ha fallito eh vabbè ehm non so se è deluso non so se ti dici nel suo conto ma hai sparato proiettili non c'è nessun proiettile tu sei pazzo c'è una sparatoria presto ma quale sparatoria no no allora aspetta qua c'è il proiettile almeno usalo adesso basta dove vai aspetta qua sotto i quartieri fermi sono sparatoria scrivo i proiettili ma dove non c'è il suo mi sembri cementano basta scrivo i proiettili capirà da schifo basta non c'è nessuno qui ti vuoi calmare sei il più pazzo di tutti sei più pazzo del prete del pompiere del dottore messi insieme però faccio meno battute ma non la faccio va bene andiamo dai non ci voglio sentire ho arrestato è una battuta d'arresto allora ti vuoi calmare un attimo andiamo adesso mi hanno dato neanche i soldi ma cosa fai basta con sta pistola basta calmo è un cadavere ma quale cadavere non c'è niente è stato un delitto ma dove ma quale delitto sei stato tu John io ma cosa c'entro io mentre io inseguivo i due malviventi tu hai sparato questo povero cristiano che non ti ha fatto nulla è tutto fuori questo ma cosa ma che stai dicendo sono portati in carcere ma quale carcere non ho fatto niente non c'è nessun delitto in un carcere religioso ma cosa stai dicendo allora ti calmi io non c'entro niente scappa l'ultimo ma non mi fa paura questo che è successo adesso magari una trappola una trappola ha fatto così perché magari poi vengo lì non lo so come è successo jack danny danny jack no ancora no vabbè danny 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 non mi fa preoccupare dai danny a a a a a un a